E che oramai siamo veramente giunti al capolinea. Io mi rendo conto che abbiamo chiesto tanti sacrifici ai cittadini, cittadini appunto quelli che erano interessati soprattutto al percorso della galleria. Ora finalmente con quest'ultimo sacrificio che chiediamo ai residenti in via Mignone, sicuramente i lavori sono terminati e non ci resta appunto che attendere l'apertura ufficiale del tracciato. Questa è la verità, ecco, io stesso appunto più volte ho dovuto fare tramite tra l'ANAS, tra l'impresa appunto che realizza l'opera e i residenti, però credo che con il dialogo tutto possa essere superato.